Cosa significa essere il produttore di cucine più affermato in Europa? Molto semplice è la conferma che la nostra idea funziona. Il nostro desiderio è quello di dare a milioni di persone la cucina adatta al loro stile di vita. Per questo produciamo una grande molteplicità di cucine personalizzate come coloro che le abitano. Milioni di possibilità per ogni cucina. Ma tutto questo ancora non ci basta. Desideriamo che ogni cucina nobilia sia la portata di tutti. E' per questo che abbiamo sviluppato il tipico sistema nobilia. Una gamma dalla struttura logica e con componenti chiaramente definiti. La progettazione di una cucina nobilia diventa semplice e consente di produrre quantità di elementi molto rilevante. Quando parliamo di grandi quantità intendiamo anche questo. Se si mettono uno accanto all'altro tutti i pezzi che producemo in un anno, il percorso parte da dove siamo, qui a Verl, per arrivare a Lisbona e poi di nuovo indietro. Per riuscire a fare tutto questo dobbiamo essere innanzitutto efficienti. Una produzione altamente automatizzata, dove però vige questo principio. Le macchine sono al servizio dell'uomo. La nostra via che porta le cucine è verde. Solo legni provenienti da coltivazioni controllate e per ogni albero dal quale nasce una cucina nobilia ne piantiamo uno nuovo. Ottimizziamo il taglio dei nostri pannelli in modo da avere il minimo di scarti. Gli scarti li ricicliamo nella lavorazione oppure li usiamo per riscaldare i nostri stabilimenti. Siamo precisi. Qualcuno dice anche pignoli, ma preferiamo controllare sempre due volte un controllo qualità articolato ed esteso ad ogni singola fase di lavorazione. Perché lo sappiamo, ogni errore scoperto in anticipo significa un cliente soddisfatto in più. Il fatto che durante questi controlli non troviamo molto non può che farci piacere perché testimonia che i nostri due laboratori di controllo qualità hanno svolto un ottimo lavoro. Perché da noi vanno in produzione solo i materiali e i componenti che hanno precedentemente dato prova di validità in tutte le discipline. È proprio questo che noi facciamo. Cucine belle e funzionali, ad un prezzo veramente buono. Ma anche il prodotto migliore non è un prodotto di successo se non viene comprato. Per questo abbiamo partner forti, professionisti della vendita in tutto il mondo che sanno come distribuire le nostre cucine. Supportiamo il loro lavoro con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione, con la pubblicità nella progettazione delle mostre. Ma poi ci siamo chiesti come possiamo semplificare ancora la vendita di cucine nobilia, facendo sì che ogni nostro cliente avesse i suoi referenti fissi. Ogni ordine viene da noi registrato ed elaborato graficamente. Questo riduce gli errori di progettazione. E le moderne tecnologie consentono di abbreviare i processi interni così tanto da fare in modo che la vostra cucina arrivi da voi in tempi da record. Naturalmente, con i nostri automensi si capisce perché è meglio andare sul sicuro. Consiste proprio in questo il nostro sistema, il sistema nobilia. Un sistema che funziona. Un sistema che funziona. enforcement. Di seri. Grazie a tutti